Incontro aquilano oggi per l'ex deputato terramano Paolo Tancredi con il presidente della regione Marco Marsilio e il deputato Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia, il nuovo partito di centrodestra liberale, riformista ed europeista che si ispira a valori cristiani. Tancredi nel corso dell'incontro presenterà la sua adesione al nuovo partito e quindi il ruolo di coordinatore regionale, così come ha confermato a noi di Super J, e contestualmente ribadirà il suo appoggio alle coalizioni di centrodestra impegnate alle prossime amministrative. In primis all'Aquila, dove Tancredi schiererà alcuni candidati a sostegno del sindaco uscente Pierluigi Biondi, ma anche all'amministrative di Teramo, dove Tancredi farà una lista che si propone di dialogare con i partiti del centrodestra, ma anche con le civiche. Tancredi, infine, sollecitato a rispondere se a Teramo sarà candidato in prima persona o se si limiterà ad avere un ruolo di ispiratore della lista, ha dichiarato. Per il momento mi limiterò a mettere insieme tutte quelle persone che si riconoscono nelle forze liberali e moderate di centrodestra, ma manca un anno, non metto preclusioni.